Istituto Comprensivo Papanici Alfieri, sono sette scuole? È distribuito su sette edifici, ma sono anche di più perché i PES poi sono distribuiti per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per cui dobbiamo moltiplicare per tre ognuno di essi. Insomma, un momento importante per l'apertura dell'anno scolastico, ma credo un impegno suo che è cresciuto tantissimo. Ebbè sì, diciamo che è più del doppio perché non è solo il numero di alunni, ma è la dislocazione. Noi abbiamo dei punti di erogazione del servizio che cominciano a Crotone Centro e poi arriviamo a Margherita, Pizzuta, Papanice, tutta la zona periferica del comune di Crotone. Sono tante le classi? Le classi sono tantissime perché deve considerare che noi avevamo all'Alfieri 42 classi, più tutte le altre classi dell'Istituto Comprensivo di Papanice, siamo arrivati intorno alle 80 classi. È un momento importante, dicevo, perché chiaramente è una questione anche di fiducia nei suoi confronti, perché affidare una presa, una dirigente, tante scuole significa che si ha fiducia in lei. Io spero di farcela e ce la metterò tutta. Certo, l'impegno sarà veramente grande. Abbiamo probabilmente cominciato col piede giusto perché c'è stata una capacità dei docenti di comunicare bene sin dall'inizio. Abbiamo fatto dei dipartimenti laddove hanno cercato di mettere insieme le buone prassi di entrambi gli istituti. Devo dire la verità, mi sono sorpresa perché avevo fatto un giorno di riunione per dipartimenti e me ne hanno chiesto un altro per poter affinare un po' le conoscenze degli uni e degli altri e delle buone prassi. Credo che ce la faremo. È iniziato bene quest'anno? Sì, sì. Io avevo molte remore, dico la verità. Lo vedevo come un lavoro veramente difficile da portare avanti. Pare che sia iniziato col piede giusto e ne sono contenta. Grazie. Grazie.